In amore è impossibile ricominciare da capo quando esiste un passato che ci ha toccati. Non si può mai veramente voltare pagina. Secondo me, vedere Vittorio di nuovo al paradiso ti dà fastidio. Guarda Elsa, sei completamente fuori strada. Io non lo so quello che mi sta succedendo. Mi creda padre, io non vorrei provare certe cose. So che è sbagliato. Prova a fare una vita un po' più normale. Frequentare una brava ragazza. Sto cercando di capire cos'è di diverso, ma io diverso. Sì. Non c'è niente di diverso. Io sono confuso. Posso essere confuso? Una volta? Roberto Landi può essere confuso una volta nella sua vita. Certo, certo. Roberto Landi può essere confuso, ma non sulle spalle degli altri. Non permetterò mai che tu sposi mio figlio. Per quel che mi riguarda quel ragazzo non metterà mai piede a casa nostra. Che se è vero quello che penso... Che cosa? Quello che tu ti rifiuti di vedere. Allora rischi di essere infelice per tutta la vita. Se sei confuso, Roberto... Non posso. Gli hai tutto il diritto di essere. Vai da lei e gliel'uomo. Silvana, sono attratto dagli uomini. Perché non si scappa dai problemi. E soprattutto non si scappa da se stesso. Stai soltanto cercando delle risposte. Una cosa che senti ma non ti spieghi. E se sei tu quella che mi puoi aiutare... Vieni, vieni. Questa è casa tua. Vieni quando vuoi.